Nel sottosuolo di Napoli, la centrale della banda del buco. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato, in seguito a un'attività di indagine iniziata negli scorsi mesi per una tentata rapina a un istituto di credito al corso Umberto I, hanno effettuato un accesso a un locale terraneo, chiuso da un lucchetto in via Sersale. All'interno i poliziotti hanno notato una botola aperta e accertato la presenza sulla parete di un buco che conduce alle fogne poste davanti all'istituto bancario. Di lì era stato praticato un incavo sulla parete di cemento della filiale, come già accaduto in passato. Sono state poi rinvenute due pistole Beretta calibro 7.6.5, di cui una carica con 7 cartucce e l'altra con 10, avvolte in stracce ed occultate in busse nere di plastica. Vi erano inoltre tute da lavoro bianche, guanti in lattice, cappellini neri, passamontagna, torce, calzerotti, stivali e guanti da lavoro, tutto materiale sequestrato. Infine è stato recuperato un cavo che prelevava energia elettrica dal contatore del locale adiacente.